Allora, vediamo gli sparati! Dovrebbero essere i dorsi in sport? Squalo! No, chi sono? Aiuto! Campi Roma! Un applauso a Campi Roma! Fantastici anche loro! Questo c'è un giocchetto in testa! È un uomo la donna, levati il casco! È un uomo, va detto, sono uomo! Grazie, siete i nostri peli? No, ben sperato! Allora, avete trovato qualche equipaggio? C'è qualcuno che non arriva? Aspetta, levati il casco! Allora, leviamogli al piano! Vai! Allora, i Boyarang sono rimasti assoppiattati? Pare di sì! Pare di sì! Ma scusa, Boyarang vuol dire che non sono capaci di niente, giustamente si sono piattati, eh! Dopo, quando finisce la manifestazione... Eh, se il circuito è bagnato è più divertente! Allora, sì! Allora!